Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News edizione Milano. Vediamo insieme i principali fatti di oggi. Sono quasi triplicati nel giro di 15 giorni i casi di positività al Covid ad Abbiategrasso, nel mineno del nuovo picco i festeggiamenti degli europei e la variante Delta. Palazzo Marino, Prefettura e i commercianti, tutti dalla stessa parte per provare a contrastare i fenomeni di mala movida del capoluogo, grazie ad un patto di collaborazione. Il caso dei camici che ha portato a rinvio a giudizio del presidente Fontana accende il dibattito sulle elezioni amministrative di Milano, botte risposta a distanza Sala Bernardo. Accelera nel secondo trimestre dell'anno la produzione industriale in Lombardia che arriva addirittura a superare i livelli pre-crisi e la fotografia scattata dall'indagine di un eocamere. Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato al termine di una fuga scappando dalla vittima. In primo piano l'avete sentito dalle nostre anticipazioni in questa edizione l'emergenza sanitaria con il numero dei contagi che torna a preoccupare soprattutto ad Abbiategrasso, dove i numeri sono addirittura triplicati nel giro di 15 giorni nel mirino non solo l'avanzare della variante Delta sul territorio Lombardo ma anche i festeggiamenti per gli europei di calcio. Sono quasi triplicati nel giro di 15 giorni i casi di persone residenti ad Abbiategrasso che risultano positive al Covid essendo passate dalle 9 che erano alla data di giovedì scorso alle 25 di mercoledì sera. Un innalzamento che può essere il frutto dei festeggiamenti per la vittoria dell'europeo di calcio dalla diffusione della variante Delta del coronavirus combinata con l'ovvio allentamento generale di ogni restrizione. La notizia tende a essere confermata dal sindaco Cesare Nai che però ha dichiarato come l'aumento registrato ad Abbiategrasso se confermato è in linea con quello che si sta verificando a livello generale sia nel nostro territorio che nel resto d'Italia. È importante continuare con le vaccinazioni ha continuato il sindaco che presso il quartiere Fiera continuano a essere somministrate in gran numero e avere comportamenti consoni alla situazione prestando la giusta attenzione all'igienizzazione delle mani, all'utilizzo delle mascherine nei casi previsti e al distanziamento interpersonale. Lo scorso anno alla fine di luglio i casi di Covid risultavano azzerati e non se ne ebbe più notizia a Abbiategrasso fino a quando ripresero a risalire rapidamente un mese dopo l'inizio dell'anno scolastico mentre al 2 ottobre erano ancora fermi a 10. Tuttavia i casi di queste settimane riguardano giovanissimi non ancora vaccinati con doppia dose o comunque pazienti asintomatici. Infatti dalla SST ovest milanese arriva la conferma che la situazione rimane ampiamente sotto controllo dato che in tutta l'azienda ospedaliera ci sono solo pochi ricoverati a Legnano mentre tutti i nuovi contagiati sono per ora in isolamento domiciliare e non necessitano quindi di essere curati al Fornaroli di Magenta o al Costantino Cantù di Abbiategrasso. Questa è la situazione di Abbiategrasso ma come tutti i giorni facciamo anche il punto a livello globale, a livello lombardo sulla campagna vaccinale grazie all'aiuto della grafica, campagna vaccinale che avanza oltre il 50% in Lombardia abbondantemente ormai con la seconda dose quindi con la copertura totale, un dato più alto di quello nazionale, resta ancora una fetta del 34% da immunizzare. Chissà se gli appelli di questi ultimi giorni serviranno, intanto però nella giornata di ieri come vediamo dalla secondo cartello le dosi somministrate sono state appena 77.233, numeri lontani da quelli in tripla cifra degli ultimi giorni e vediamo anche i contagi, dicevamo di Abbiategrasso, i nuovi positivi ogni 100.000 abitanti ricordiamolo, calcolati su una media settimanale ci dicono che la Lombardia ha 39 nuovi positivi e Milano appena sotto a 38 avanza e a livello nazionale invece sopra i 50, siamo già a 56. ovviamente dati da tenere sotto controllo. A Milano adesso dove invece non c'è solo il problema dell'emergenza sanitaria ma anche quello della mala movida, un fenomeno da contrastare con la sinergia tra la prefettura e il comune ma anche grazie al contributo dei commercianti. Sentiamo. Attivare sinergie virtuose per la messa in campo di azioni innovative per la qualità del divertimento notturno giovanile con l'obiettivo di promuoverne un modello sano e rispettoso della città e dei suoi abitanti per garantire ai residenti e ai fruitori contesti più sicuri, responsabili ed ecosostenibili limitando nel contempo i grandi assembramenti e il rumore all'aperto. Queste le parole contenute nella delibera dell'esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Sala a cui si sta lavorando per trovare un patto pubblico privato contro la movida selvaggia. Il comune di Milano ha appena stanziato 200.000 euro per finanziare associazioni di commercianti e non solo, capace di favorire la gestione ordinata delle aree esterne ai locali più frequentati del popolo della notte. Linea guida per la sottoscrizione appunto di un protocollo d'intesa che vede come protagonisti oltre a Palazzo Marino la prefettura, l'ATS della città metropolitana, l'Università Bicocca, l'EPAM, ovvero l'Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi Confesercenti Milano e l'Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria. Nella delibera vengono indicate anche le principali aree dove mettere in atto le iniziative antimovida selvaggia dalle 21 del venerdì alle 2 del sabato e dalle 21 del sabato alle 2 della domenica. Piazza Duomo, Piazza Mercanti, Corso Garibaldi, Corso Como, Via Montegrappa, Darsena Navigli, Brera, Colonne di San Lorenzo, Piazzella Archinto, Quartiere Lazzaretto, Via Lecco, Via Melzo, Arco della Pace, Quartiere Isola, Piazza Minniti, Via Borsieri, Area Nolo, Via Tortona. Il protocollo avrà validità un anno, ma nel frattempo il Comune si impegna ad introdurre eventuali limitazioni agli orari di asporto di prodotti alcolici, nonché il divieto di vendita di bottiglie in vetro e lattine. Un argomento di strettissima attualità nella contesa legale tra residenti e commercianti del tratto di Corso Garibaldi, compreso tra Via Moscova e Via Marsala. Dopo una serie di pronunciamenti di tar e consiglio di Stato, Palazzo Marino ha dovuto introdurre una serie di norme stringenti per garantire il diritto della quiete dei cittadini, in particolare lo stop all'asporto dalle 22 e la chiusura dei Deor a mezzanotte in tutti i giorni della settimana. Nel progetto di una movida responsabile tra i vari obiettivi ci sono anche quelli di intensificare le attività e i servizi di vigilanza, controllo e prevenzione di sua competenza nelle stesse zone, promuovere nelle zone caratterizzate da maggiore concentrazione la presenza di un coordinatore dei servizi di sicurezza sussidiaria, attivati presso i singoli esercizi per una relazione efficace e coordinata con la polizia locale e le forze dell'ordine, posizionare cartelli informativi rivolti ai più giovani e garantire una tempestiva pulizia delle aree a maggior afflusso di pubblico per evitare e prevenire contesti di degrado. Non solo, nella delibera approvata la Giunta prevede di avviare due iniziative progettuali per migliorare la fruizione degli spazi pubblici della movida grazie allo stanziamento di 200.000 euro che associazioni, enti del terzo settore e istituzioni che rappresentano i commercianti potranno utilizzare a partire dal prossimo 10 settembre dopo aver partecipato ad apposi di bandi. I primi 100.000 euro serviranno per la realizzazione di progetti di educazione civica finalizzati alla sensibilizzazione ad una migliore fruizione degli spazi pubblici. Gli altri 100.000 euro invece hanno l'obiettivo di favorire la gestione ordinata delle aree dei plateatici e o delle aree esterne immediatamente pertinenziali ai locali e favorire sinergie virtuose con la polizia locale e le forze dell'ordine in caso di necessità. In primo piano a Milano non solo la Movida ma anche l'ormai prossima tornata elettorale con l'elezione del nuovo sindaco. È un dibattito che si sta infiammando, quello tra il sindaco uscente Sala e il suo sfidante del centro a destra Bernardo, al centro della contesa in queste ultime ore la notizia del caso dei camici che ha portato al rinvio a giudizio anche del presidente Fontana, un pretesto per parlare di giustizia, uno dei temi centrali di questa campagna elettorale. Sentiamo che cosa si sono detti. Il rapporto tra pubblica amministrazione e la giustizia è il tema dei politici indagati. È questo l'ultimo capitolo della campagna elettorale per le comunali del prossimo autunno. I protagonisti sono sempre loro, il sindaco in caccia di una riconferma Giuseppe Sala e lo sfidante del centro-destra, il pediatra Luca Bernardo. Il tema della giustizia lo solleva il primo cittadino uscente che replica così a una domanda sul caso Camici che ha portato al rinvio a giudizio del governatore Lombardo Attilio Fontana. Io non guardo la situazione Fontana, quello che dico è che in un modo o nell'altro negli ultimi dieci anni l'amministrazione milanese di sinistra è stata immune da fatti corruttivi e questo qualcosa vuol dire. Oggi veramente dimenticando la questione Fontana anche perché poi credo che tra noi si debba, tra il Presidente della Regione e il Sindaco, si debba cercare di tenere un rapporto il più possibile tranquillo. Ecco però se vadiamo tutto il numero dei tanti indagati dal centro-destra a vario titolo sono tanti e quindi oggi è come se fosse una gara con, per così dire, con alcune decine a zero. E parlo del nostro territorio, parlo del nostro territorio, non voglio generalizzare ma nel nostro territorio oggettivamente così. Una battuta che suscita la reazione immediata di Bernardo che invita Sala a pensare al suo operato degli ultimi cinque anni. Intanto mi spiace che il Sindaco uscente faccia un'altra caduta di stile perché la fa lui o a volte qualcuno dei suoi vicino quando non la fa lui e questa è una caduta di stile. Io sono sempre comunque garantista e so che abbiamo delle forze dell'ordine, una avvocatura, una magistratura che è in grado di dirci cosa è successo ma garantisti sempre per la sinistra e per la destra. Invece di far caduta di stile ci dica cosa ha fatto per la città in cinque anni, anzi dieci di sinistra e soprattutto vorrei vedere, sono contento che in questi giorni si sta muovendo tanto e stanno facendo tanto, forse un po' tardi. Ci dica soprattutto quali sono i suoi programmi perché ancora non l'abbiamo capito. Una notizia di cronaca adesso. Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato al termine di una fuga scappando. I due dalla vittima hanno tentato di parcheggiare, peccato, proprio davanti alla pattuglia dei carabinieri stessi. Due uomini, un trentenne e un ventunenne, entrambi peruviani, sono stati arrestati mercoledì pomeriggio dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato al termine di una fuga finita in maniera decisamente singolare. Stando a quanto ricostruito e riferito dai militari, verso le 18 i due hanno avvicinato un 67enne che stava lavando la macchina in un autolavaggio di Cassina De Pecchi. Lo hanno distratto e gli hanno sfilato il cellulare dal sedile. Per nulla intenzionato ad arrendersi, il derubato è risalito a bordo della vettura e si è messo sulle tracce dei due che intanto erano scappati con la loro auto. I fuggitivi, dopo aver distanziato di qualche metro la vittima, hanno cercato rifugio nel parcheggio del supermercato MD di Cernusco sul naviglio, sperando di passare inosservati. Purtroppo per loro però si sono ritrovati davanti a una gazzella dei carabinieri impegnati in zona per un altro intervento. Dopo aver notato i due, i militari hanno deciso di fermarli e qualche attimo dopo è arrivato il 67enne che ha raccontato l'accaduto. Il cellulare dell'uomo è stato trovato proprio nella macchina dei ladri che così sono finiti in manette. Cambiamo decisamente argomento, buone notizie arrivano dalla produzione industriale, accelera nel secondo trimestre del 2021, ovviamente a livello lombardo, arrivando addirittura a superare i livelli pre-crisi, pre-pandemia. È una fotografia scattata dall'indagine di Unione Camera e nel servizio tutti i dettagli. Accelera nel secondo trimestre del 2021 la produzione industriale della Lombardia che arriva addirittura a superare i livelli pre-crisi. È la fotografia scattata dall'indagine congiunturale svolta da Unione Camera e Lombardia in collaborazione con le associazioni dell'artigianato e presentata a Palazzo Lombardia. La produzione industriale sale del 3,7% rispetto al trimestre precedente e addirittura del 32,5% rispetto allo stesso periodo del 2020. Crescono sia gli ordini domestici che segnano un più 3,8% che quelli all'estero saliti del 6,1%, mentre l'analisi settoriale evidenzia che il momento migliore lo sta vivendo la siderurgia, al contrario, più in difficoltà i comparti della moda e dei trasporti, ma l'ottimismo resta comunque molto alto. Abbiamo voluto vedere anche le media del 2019 e quindi l'industria manifatturiera cresce in maniera significativa tra il 9 e il 20% a seconda del fatturato, degli ordini o della produzione rispetto alla media del 2019. Un dato particolarmente significativo mi sembra opportuno sottolinearlo che è il ricorso alla cassa integrazione. Un anno fa, esattamente a luglio dell'anno scorso, abbiamo rilevato che su 100 aziende lombarde 71 dell'industria e 69 dell'artigianato ricorrevano alla cassa integrazione. Ecco oggi questo dato è per l'industria il 13% e per l'artigianato poco più del 13%. Leggera contrazione, pari a circa mezzo punto percentuale, per la produzione delle aziende artigianali manifatturiere. Sicuramente il dato dell'artigianato che tentenna un po' di più rispetto a quello dell'industria perché l'artigianato molto vive di mercato interno, per cui finché la pandemia non è completamente debellata e i numeri delle vaccinazioni non è quello che ci si aspettava diciamo a inizio anno, qualche tentenamento ci sarà. Soddisfazione infine anche dalle istituzioni regionali con l'assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi che non usa mezzi termini. I dati più che in risalita sono un botto assolutamente positivo, lo dico in maniera molto molto franca, a volte anche inaspettato. Noi abbiamo messo a disposizione tutto quello che avevamo per il sistema produttivo Lombardo, abbiamo cambiato strumenti, abbiamo lavorato in sinergia con gli imprenditori e con le associazioni di categoria e credo che i dati di oggi dimostrano che la direzione è assolutamente quella giusta. A proposito di investimenti parliamo anche di trasporti, tenendo ben presente le problematiche del trasporto in particolare su rotaia, risorse fresche, 120 milioni di euro che saranno spesi in investimenti per la rete di ferrovie nord per provare ad efficientare il servizio. Il Consiglio regionale Lombardo ha approvato emendamenti all'assestamento di bilancio che prevedono complessivamente 121,8 milioni di euro da spendere. Ha fatto sapere la stessa regione per ulteriori investimenti finalizzati all'efficientamento e allo sviluppo della rete ferroviaria gestita da ferrovie nord. Quasi 13 milioni, ha chiarito il pirellone, saranno riservati agli interventi strutturali, tra questi 5 milioni per la Brescia-Iseo-Edolo, 2 milioni per l'eliminazione dei passaggi a livello di Lomazzo e Cadorago e 5,8 milioni per gli interventi coordinati di raddoppio della linea della tratta ferroviaria e di eliminazione dei passaggi a livello tra Arosio e Inverigo. 29 milioni serviranno invece per le opere infrastrutturali connesse all'attivazione dei treni a idrogeno sulla Brescia-Iseo-Edolo. La maggior parte dei fondi, 80 milioni, sarà spesa su Milano. I soldi serviranno per interventi infrastrutturali sulla rete di ferrovie nord e in particolare relativi agli apparati di controllo del ramo dello scalo ferroviario meneghino. L'approvazione degli emendamenti ha sottolineato l'assessore regionale a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi e una buona notizia e va nella direzione di implementare le risorse per la rete di ferrovie nord e di competenza regionale. Da parte nostra l'impegno prosegue con convinzione. I 121,8 milioni di euro si andranno ad aggiungere agli investimenti di regione Lombardia, già previsti dal contratto di programma con ferrovie nord e che valgono qualcosa come 893 milioni di euro, di cui 221 milioni relativi a interventi già cantierati. Continuiamo a parlare di trasporti perché c'è grande attesa per l'apertura della linea M4 che però slitterà rinviata al dicembre del 2022, non ci saranno inaugurazioni ufficiali durante la campagna elettorale. Tutto sarebbe pronto ma il nastro non verrà tagliato prima della fine del 2022. La M4 non verrà dunque inaugurata nel corso di questa campagna elettorale come era stato paventato. A dirlo è l'assessore comunale alla mobilità Marco Granelli che nel corso di una commissione consigliare a Palazzo Marino ha spiegato che il servizio della linea blu sarà attivato quando ci saranno le condizioni, ossia quando all'aeroporto di Linate ci saranno sufficienti passeggeri per giustificare i costi d'esercizio della metropolitana. Secondo le previsioni del comune, questo accadrà quando la linea raggiungerà la stazione di Dateo, ovvero verso la fine del 2022. A dirla tutta, la prima tratta della M4, quella tra l'aeroporto di Linate e Forlanini FS, ha superato da diverse settimane tutti i collaudi ministeriali e sarebbe così pronta a entrare in esercizio. Ma l'amministrazione ha deciso di non far viaggiare i treni per il numero tuttora ridotto di passeggeri che gravitano sullo scalo di Linate, che ad oggi non raggiunge il 30% dei volumi normali. Granelli ha comunque assicurato che se i numeri di Linate dovessero cambiare, il comune sarà pronto ad intervenire modificando la sua decisione. Un rinvio che le opposizioni non hanno però digerito bene, il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale attacca, sottolineando che in questo modo si comincerà a incassare qualcosa dai biglietti solo nel 2023. La M4, aggiunge De Pasquale, è la prova che il sindaco Sala non è stato capace di far rispettare i tempi e la qualità delle opere pubbliche. Elezioni amministrative che non riguarderanno solo il capoluogo, solo Milano, ma anche diverse altre zone della Lombardia, a cominciare dal Magentino, dove uno dei principali comuni chiamati al voto è quello di Sedreano. Anche qui la campagna elettorale sta entrando nel vivo, al centro del dibattito, il progetto del nuovo polo scolastico. Uno dei paesi politicamente più rilevanti nel Magentino è che andrà al voto a ottobre. A Sedreano il tema che principalmente tiene banco nella campagna elettorale è la realizzazione di un nuovo polo scolastico che nelle intenzioni del sindaco Angelo Cipriani porterebbe Sedreano già nel 2050, ma che vede l'opposizione di Marco Re, candidato del centro-sinistra, contrario a sacrificare il parco cittadino e a lasciare gli attuali edifici senza una destinazione certa, sulla quale il sindaco del Movimento 5 Stelle, unico caso in Lombardia, si sente però di rassicurare la cittadinanza. L'ultima trovata elettorale dell'amministrazione in carica è quella di realizzare un polo scolastico proprio su quest'area, quindi togliere questo bellissimo parco. Io ho spiegato ai cittadini, ho cercato di spiegare quali sono le ragioni per cui questo polo scolastico in realtà non è utile per le scuole dell'obbligo di questo paese, quando abbiamo delle scuole bellissime dotate di verde che possono essere manutenute. Ma dico ancora più forte che è proprio sbagliato farlo qui, togliere questa grossa opportunità, questo polmone verde, questo luogo di ritrovo, di ricreazione per la nostra comunità. Insieme a queste ce ne sono altre di scelte, alcune siamo riusciti a bloccarle. Una di queste scelte era quella di fare dei parcheggi in piazza del seminatore, un altro luogo amato e frequentato dai nostri cittadini, una zona pedonale di pregio. Siamo riusciti a bloccarla solo facendo un esposto alla soprintendenza ai beni monumentali e questo ci dice molto della sensibilità che questa amministrazione ha nei confronti delle cose che più interessano e più piacciono ai nostri cittadini. Tra le altre prime cose siamo qui in questo parco, vedo di fronte a me l'area Feste, è un'area che è stata realizzata con un progetto discutibile, ma non ha alcun senso farla rimanere chiusa per altri anni, lo è stato ormai per troppo tempo, riportiamo anche quest'area a un utilizzo per questa comunità. Un altro tema in primo piano che abbiamo raccontato negli ultimi giorni è la trasformazione del Consorzio dei Navigli in società mista pubblico privato, una decisione che ha avuto un effetto domino con l'addio tra le altre di Albairate. Sentiamo allora gli ultimi chiarimenti su questa vicenda. Non è Albairate che abbandona il Consorzio e quest'ultimo che con la sua trasformazione in società mista pubblico privato diventa qualcosa di diverso da quanto è stato finora e che perde lo spirito della fondazione che ha visto molti comuni del Magentino Abbiatello, mettersi insieme seguendo una logica di miglioramento dei servizi e redistribuzione degli utili sul territorio invece che ad azionisti privati. Questa è la posizione del Comune di Albairate, socio fondatore del Consorzio dei Navigli e Comune che ne ospita la sede e che si avvia ad uscire dal Consorzio. Non è il nostro un recesso dalla forma attuale, tra l'altro la delibera di consiglio lo dice chiaramente, semplicemente non ci riconosciamo, non abbiamo dato disponibilità ad aderire alla forma futura. Se il Consorzio non si trasforma per il più svariato dei motivi non è accaduto nulla e di conseguenza la delibera del Consiglio che è puntuale e forse a qualcuno è sfuggito che ha una delibera all'unanimità. Quindi è un segnale politico molto forte quello che abbiamo dato. Dicevo, se siamo di fronte a una trasformazione, il Comune di Albairate è socio a tutti gli effetti di questo Consorzio. Di questo, di quello che verrà, e di quello che verrà noi abbiamo detto chiaramente, in caso di trasformazione, ma solo in caso di trasformazione perché in questo è scritto, gli uffici hanno l'incarico di esplorare altre forme. Il Sindaco Flavio Crivellina ha scelto di essere tra gli ultimi comuni a deliberare sulla trasformazione societaria proprio per non mettere pressioni agli altri comuni lasciati liberi di compiere le loro scelte. Qual è la logica per cui un privato accetta di entrare in una compagine societaria con una quota assolutamente minoritaria e senza un rappresentante in consiglio d'amministrazione? E questa è la prima domanda che ci siamo fatti. La seconda è quali saranno i passaggi successivi nel corso degli anni o nel momento in cui ci sarà la trasformazione da Consorzio perché si andrà verso l'ambito territoriale ottimale. Ci troveremo di fronte a un bando a doppio oggetto dove uno degli oggetti è diventare socio e l'altro è diventare l'operatore, quindi di avere l'assegnazione al servizio. Certo, sono quegli stessi soggetti che magari stanno svolgendo servizio anche in altre zone del nostro territorio e di fatto poi si trovano a essere già gli operatori all'interno dell'ambito territoriale ottimale. Nel momento in cui vado a cercare un socio che mi faccia la parte operativa, perché non deve essere pubblico? Provo a pensarla così, perché non può essere una parte di aggregazione a livello territoriale. E questa era anche la nostra ultima notizia, noi ritorniamo come sempre dopo la pubblicità con l'edizione Pavia.